l'arbitro dà il via alla seconda metà della gara artiglia bene il pallone palla fermata benissimo dal difensore il De Rossi palla schizza via dopo il contrasto De Rossi palla che esce, Touche, rimessa laterale intercettano bene il pallone e provano a ripartire De Rossi la versione che viene intercettata un flipper qui palla che finisce fuori ci viene riproposta la conclusione precedente ha sfiorato il gol libera l'area con un buon colpo di testa e il pallone se ne va via De Rossi grande tackle difensivo Santon c'è un'ottima rete di passaggio fuori sarà fallo laterale ha riconquistato il pallone con un intervento ottimo ottimo l'intervento recupera il pallone sale occhio al movimento dei suoi compagni a destra ha intercettato bene il passaggio non ci voleva molto bel pallone vintrante ma ottima copertura attenzione attenzione rete quello del portiere è ovviamente un ruolo crudele si rimane sempre soli e delle volte finisce malissimo come in questa circostanza è una gara a senso unico questa ormai De Rossi Campagnano Boateng Hiller lottano per conquistare il pallone sembra poco lucido palla in fallo laterale si ripartirà con una rimessa laterale l'arbitro ha visto qualcosa compagni ripartirà con un luogo indiesa Supera il difensore, si riprenderà con un fallo laterale. E finalmente c'è una bella parata. Deve aver avuto un moto d'orgoglio. Bella l'apertura per il compagno. Ci ripartirà con la rimessa, pallone che è stato toccato, deviato dall'altro giocatore. Hiller. Murato dall'intervento del difensore. Di nuovo sulla traiettoria giusta. A spazio, prova. Questo è il replay del gol precedente, visto l'altra angolazione. Hanno interrotto l'azione avversaria recuperando palla a centrocampo. A giudicare dalle smorfi potrebbe essere un problema muscolare. Speriamo ovviamente non troppo serio. E il pallone entra ed è gol. Tutto fermo, gol annullato. Cioè, posizione di fuorigioco secondo l'assistente. In diretta, a velocità normale, è sembrato anche a me che fosse in fuorigioco qui a Luigi. Ecco qui il gol, non convalidato dall'arbitro per una posizione di fuorigioco che se c'era era proprio millimetrico. E' vero, decisione sicuramente difficile al limite. E che condivido, Pier. Bravo l'assistente. Hiller. Toccatore che sembra stanco adesso. Riescono a bloccare l'avanzata lungo la corsia laterale. Buon tempo. Spezzato bene qui il gioco avversario. Hanno recuperato palla nella zona mediana del campo. Occhio attraversone. C'è un uomo a terra, potrebbe essere un problema muscolare. Vedremo se in questi minuti finali ganderà qualcosa. Ma insomma, gli equilibri mi sembrano abbastanza chiari. Ha spazio per tirare. E qui, e il pallone finisce in gol. Ci hanno creduto e sono arrivati al gol dopo una bellissima azione. Grande fiuto del gol per l'attaccante. Che è stato bravo ad avventarsi dal primo sul pallone. Ha respinto dal pacchiera e a farlo sempre. Sembrano ormai avere la situazione sotto controllo. Bravo il numero. Non va. Di testa per i compagni. Ecco il tiro. Tiro è respinto dal difensore. Pronto a battere questo corte. Palla vagante adesso. Si è fermato. Si tocca il muscolo. Ovviamente insomma, vedremo di che cosa si tratta. Eccolo, il fischio dell'arbitro. Non c'è stata storia. 4 a 0. Sono partiti come da aspettative, aggiudicandosi i primi tre punti della stagione. E i giocatori sanno di aver fatto il loro dovere. E questo gli dà fiducia nei propri mezzi. di partito. Oh. 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 Grazie a tutti.